Il due volte campione del mondo nei cento metri nuoto, è stato investito da un'auto ad un incrocio di Milano, mentre era in sella sulla sua moto. Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, Magnini è stato travolto da una vettura che non si è fermata al semaforo rosso. Immediatamente trasportato al pronto soccorso, il peserese salee cavata con medicazioni al braccio sinistro e forti dolori lombari, dovuti a un amatoma al bacino. Ad informare del proprio stato di salute è stato lo stesso ex nuotatore attraverso il suo profilo social. Un'auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada. Risultato, polso ingessato e grossa botta ed ematoma, sotto il bacino. Magnini ha voluto anche rispondere, a quanti gli hanno ricordato di essere stato fortunato. Poteva andare peggio, quello sì, molto peggio, e qui dico, che mi è andata bene. Ma fortunato no.